A che punto è il grado di evoluzione dei ragazzi secondo voi, secondo il vostro percorso che come staff tecnico vi siete posti all'inizio della stagione? Guarda, secondo me siamo molto avanti rispetto a quello che pensavamo, perché come appunto hai detto tu all'inizio stagione forse nessuno si aspettava comunque un campionato da parte nostra dove riusciamo a rimanere in partita e fino alla fine qualche partita giocarci da proprio fino agli ultimi minuti. Sabato ci aspetta un altro test contro una squadra di un livello superiore, perché io penso che le prime 4, 5, 6 squadre del campionato siano veramente un gradino più in alto rispetto a tutti e noi dobbiamo dimostrare ogni sabato che andiamo in campo di aver fatto un gradino in più, di aver lavorato bene in settimana. Stas settimana ci siamo allenati bene, non abbiamo più infortuni, siamo rientrati tutti, quindi questo è già positivo riuscire anche in settimana a fare allenamenti che siamo tutti completi e ogni volta quando si ha 17-18 anni non si vede l'ora di scendere in campo, quindi i ragazzi sono sempre pronti e scendono in campo con tanta voglia. Si aspetta come dicevi tu solamente albanesi di fatto perché per il resto la squadra è tornata finalmente al completo, questo cambierà qualcosa in meglio naturalmente nelle rotazioni anche nei principi o meglio non nei principi di gioco però nel modo di giocare, di affrontare le partite o rappresentano semplicemente delle rotazioni in più? Si cambierà a livello di rotazione indubbiamente perché avere più cambi ti permette di cambiare il giocatore prima che si stanchi, prima che lui ti chiede il cambio e in più se qualcuno ha una giornata un po' storta si può avere una mano dalla panchina. Sì, albanesi anche lui manca, è un'altra pedina fondamentale che quando è sceso in campo ha dimostrato di poter stare alla grande in questo gruppo, anche lui manca poco, però abbiamo recuperato Rossi che gioca un ruolo fondamentale soprattutto in difesa, ma questi infortuni ad esempio hanno dato possibilità a chi giocava meno di crescere, sto pensando a Valentino Levricario che ha sopperito a questa mancanza di Rossi in maniera eccellente, adesso è Rossi che deve rincorrere Valentino, io penso che queste cose siano positivissime per i ragazzi di 17-18 anni, avere questa concorrenza positiva che in allenamento ti permette di lottare per poter giocare, perché ripeto loro hanno tanta voglia di poter scendere in campo, di confrontarsi contro il Fasano, il Conversano, il Bresanone, quindi ogni partita che viene per noi è oro. E al tempo stesso è vero, è il campus, è un'accademia, devono giocare tutti, però il posto bisogna sempre guadagnarselo. Sì, i ragazzi sanno che gli verrà data la possibilità, al contrario magari di squadre di club dove se uno è un professionista deve stare in panchina 60 minuti, sta in panchina seduto, qui tutti i ragazzi sanno che prima o poi avranno il loro minutaggio, magari chi un po' di meno, chi un po' di più, cerchiamo di far giocare più o meno tutti la stessa maniera, ma loro devono essere furbi e farci trovare pronti, quei 10, 15, 20 minuti che scendono in campo devono dare il massimo e cercare di mettere in difficoltà gli allenatori e solo questa è la strada giusta che poi dovranno avere anche quando diventeranno professionisti a tutti gli effetti. Tre punti raccolti, una vittoria, un pareggio e poi la sconfitta con Conversano, come prestazioni soprattutto? Dimmi com'è andata. Sì, tralasciando quella che era l'ultima, quindi contro Conversano, contro Rubiera e contro Romagna abbiamo disputato due ottime partite, soprattutto qui in casa con il nostro pubblico contro Rubiera abbiamo fatto un ottimo risultato, un'ottima partita, abbiamo espresso quelli che erano al migliore dei modi i nostri principi di gioco, contro Romagna sì abbiamo fatto anche una buona partita, però ci è scappato quello che era appunto i due punti, però siamo stati bravi a prenderne uno e contro Conversano, contro i campioni d'Italia abbiamo provato a dare il meglio ma il risultato è stato al nostro sfavore. Hai avuto anche a livello personale fino ad ora, in questo inizio di stagione, una crescita importante, un minutaggio molto elevato, in che cosa ti senti migliorato quest'anno anche probabilmente grazie a un livello più alto di partite settimanali con la Serie A Gold? Sì, sono migliorato tanto perché comunque ho trovato anche molti minuti di gioco, mi stanno dando anche molta fiducia, io dovrò ricoprire questo incarico nei migliori dei modi, mi sento migliorato sotto tanti aspetti, tra cui uno possiamo dire che anche quello della difesa, possiamo dire che stiamo migliorando, miglioreremo e continueremo a dare il massimo. Non soltanto perché la difesa era anche il tuo punto forte forse l'anno scorso, dove eri uno specialista difensivo anche in attacco ai tanti minuti quest'anno. Sì, anche in attacco a tanti minuti, però come hai detto tu, la difesa è il mio punto forte, mi piace e continuo a dare il meglio. Fasano adesso? Sì, Fasano sono forti, hanno uno dei migliori stranieri in quello che è il campionato, hanno fatto anche un nuovo acquisto, sono sesto in campionato e vorranno sicuramente, anzi possiamo dire che hanno una squadra che secondo me rientrano nelle prime tre, noi esprimeremo quelli che sono i nostri principi di gioco e avrà la meglio e la migliore. Grazie. Grazie. Grazie.